Noi rispondiamo come al solito con i fatti, noi siamo come al solito dove c'è bisogno. In Italia stiamo accanto alle autorità italiane che in questo momento stanno facendo fronte a una situazione veramente eccezionale, stanno lavorando veramente in una maniera straordinaria al quale proviamo anche noi con il nostro piccolo contributo di aiutare. Lo stesso lo facciamo in Francia, in Spagna, lo facciamo in Grecia, in Belgio, in questo momento in Europa, ma non solo perché una situazione del genere ha una scala a livello mondiale. L'esserci dove serve di medici senza frontiere, una risposta in diretta a chi chiedeva dove sono le ONG, è nella prima equip di medici e infermieri specializzati in epidemie a partire dall'Ebola, che opereranno nelle case di riposo dell'Anconetano alle prese con fenomeni di contagio al coronavirus da parte degli ospiti anziani. I primi sei operatori di MSF destinati a crescere sono già operativi da qualche giorno a Fabriano, Iesi, Senigallia e Ancona. Le figure normalmente sono degli specialisti in igiene, dei medici, degli infermieri. Il nostro scopo non è esattamente avere gli infermieri che fanno il lavoro degli infermieri all'interno del sistema, ma supportarli, starli accanto, passarli tutti i tipi di esperienze e di tutto quello che abbiamo appreso in situazioni di emergenza e di epidemia. Il personale di medici senza frontiere nelle Marche ha un obiettivo chiaro. Se una grossa parte degli operatori sanitari sono contagiati, nelle case protette o negli ospedali, c'è bisogno di contenere, trattare, curare senza sovraccaricare la macchina della sanità pubblica, che va verso il raddoppio della capienza normale dei posti di terapia intensiva delle Marche. Il cercare di prendere in carico il meglio possibile le persone all'interno della struttura sanitaria e prevenire l'aggravamento delle persone all'interno dovrebbe evitare, e questo è lo scopo principale, prima di tutto di appesantire, aggravare il peso sui pronto soccorsi e sugli ospedali e naturalmente salvare delle vite anche nel posto in cui le persone vivono.